Via! Via! Madonna Santissima! Via, per favore, via! Patrizia! Filippo! Fuori! Incredibile, di drammatico! Madonna! È pazzesco! Incredibile! Correte! 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 Madonna Santissima! Guarda come si muove! Ma è rimasto qualcuno dentro! Fuori! Chi c'è? Chi c'è? Via! Fuori! Fuori di qui! Passate dei pazzi ancora a rimanere! Fuori! Fuori! Siamo giresati! Madonna Santissima! Sta cammendo tutto qua fuori! Via 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 via! Vai via via via! Madonna che sta venendo adesso ragazzi! Fatti riceviti qua 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 qua! Fuori! Fatti sbomberate dalla zona della banca! Sbomberate dalla zona della banca! Sbomberate dalla zona della banca!